Jacques Atelier, allenatore francese degli Zalomiste Azzurri, siamo qui in Val di Fassa per la rifinitura. Cosa ci racconti di questo training? Allora, io sono molto contento come è andato questo radugno. Abbiamo fatto tre giorni, all'inizio sul facile, a livello della neve, poi un po' più dure, oggi baratta, durissima e abbiamo trovato di nuovo la fiducia e il tempismo giusto. Sono veramente fiducioso perché ho visto tre su quattro scelta veramente forte, forte. La formazione sono i tre senatori, Razzoli, Grosso e Mörg, più il giovane Vinazio che quest'anno comunque ha fatto podio a Mandone Campiglio, quindi diciamo è ben solida la tua squadra. Sì, sì, la squadra è solida. È andato malissimo, direi, anche a gennaio, ma sappiamo noi perché. Abbiamo trovato una soluzione, adesso siamo di nuovo competitivo. L'unica cosa è che abbiamo perso un po' di pettorale. Spero che mi fanno una pista bellissima, durissima, così possiamo giocarla. Tecnicamente com'è il pendio di Cortina d'Ampezzo? È molto difficile, molto impegnativo. Dalla prima all'ultima porta non c'è una porta che possiamo dire dai andiamo tutta a molare. Dobbiamo tenere all'uscita tutto il percorso.